bella a tutti ragazzi e benvenuti sul canale ragazzi oggi ragazzi come sono sti oggi treno della memoria ma che vuol dire al 6 marzo al 13 marzo a berlino in in germania e a cracovia in polonia con la scuola ragazzi è una gita di ultimo anno cioè del quinto anno che durano otto 9 giorni in totale con alzi e ragazzi però c'è anche un problema ragazzi che l'otto marzo c'è il ritorno di 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 liverpool inter e ragazzi e non so ragazzi il video il 9 marzo della reazione 6 ragazzi fa perché la la proposta dal da da berlino sono già rotto questo 6 da berlino ragazzi poi ragazzi e ragazzi e oggi ragazzi vi verrà questo video ragazzi lo vedete al treno della memoria anzichè ho il programma ragazzi che voi ragazzi ora lo vedete qui dove lo vedete qui ragazzi c'è a freno alla mia faccia ora gara e ragazzi è il ragazzo qua ragazzi tutto stampato me lo ha dato la la scuola a tutti i partecipanti in totale ragazzi quello che partono dalla scuola siamo 18 siamo di siamo 18 in tutta la scuola quel che devo andare cominciate a cominciare che un po' di noi farsi partirà tutta la puglia tutta la qualità quindi ragazzi mi può trovare anche quelli di talato lecce che ragazzi in tutta la provincia della puglia quindi ragazzi ragazzi ora iniziamo è tutta la scuola c'è tutta la scuola ok ok ragazzi ragazzi si ragazzi ora arriva vedete tra 3 2 1 tutto tutto giorno 1 mattina partenza da bari in mattinata ragazzi poi quindi a parte da bari verso alle 9 di mattina ragazzi è il ritrovo di tutti ragazzi verso le 10 più o meno si partirà dovrà partire un po' tardi ragazzi secondo me ragazzi secondo me dove volevo partire verso le 5 di mattina si 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 era detto si era detto a inizio poi inizio poi inizio poi inizio 5 minuti come ragazzi comunque giorno giorno 2 mattina 2 arrivo a berlino ex istitazione in hotel ragazzi quindi ragazzi io sarò 24 di 5 25 ore in in polma ma ragazzi ci faremo sette volte sette volte ragazzi mi faremo sette volte prossimo pomeriggio giorno 2 vista del bunker del bunker wrecking e memorial ebrei assassinati d'europa poi giorno 3 mattina vista del camp di controllo di ravesbrook poi pomeriggio vista memoriale dalla battaglia di berlino di di tower park poi i giorni pure ragazzi giorno 4 mattina partenza direzione cracovia poi ragazzi che partirò alle sette di mattina e ci sono 8 ore ragazzi per arrivare da berlino a calcovia quindi ragazzi più o meno due ore diventiamo verso il pomeriggio poi poi pomeriggio giorno 4 sistemazione in o in ostello vista teatro teatro della città vabbè poi ragazzi giorno 5 mattina vista guidata alla fabbrica di shindler di shindler come chiama 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 pomeriggio visita guidata al ghetto del Quirinale ebraico poi ragazzi giorno 6 visita in campo concentramento di austerità quella che a me mi deve essere di più Poi, pranzo, 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 pranzo al sacco offerto dalla sozione, cioè quella che ha organizzato questa gita ragazzi. Pranzo, 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 pranzo come una 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 mini assemblea tutto ciò che mi ho visto e la prasi giorno o poi poveggio assemblea planetaria cioè ragazzi tutti i gruppi di tutti gli otto pullman partiamo da bari otto pullman poi ragazzi giorno 8 mattina partenza da cracovia per bari per giorno 9 mattina 2 arrivo a bari nella mattinata vai in appena scuola più presto i pomeriggi si arriva di scuola al 100 per quindi ragazzi qui quindi lago come grazie il video termina qui e ci vediamo ragazzuoli nella reazione di una partita che sarebbe quella quella di coppita del verbi mi la inter è ma va a fare un gol loco non va a fare un line tra le scuola ragazzuoli ciao ragazzuoli ciao